Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video vlog Allora ragazze, oggi è sabato Vi chiedo già scudo se sentite casino Ma qui c'è Aaron che sta distruggendo il letto Sono le 2 e 05 E abbiamo deciso di uscire e portare i bimbi fuori Come praticamente quasi tutti i sabati Dove andremo non lo so ancora Però ho deciso di fare un video stesso Allora adesso io sono venuta qui per truccarmi E i miei capelli fanno davvero paura Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Però ho deciso di lasciarli sciolti lo stesso Perché non sono ancora così tanto sporchi Da dire li tiro su Comunque li ho lavati non ieri, l'altro ieri Quindi oggi sarebbe il secondo giorno Perché li ho lavati l'altro ieri sera Quindi vabbè Comunque adesso mi sono già vestita Però non mi fa impazzire come mi sono vestita Molto semplice come sono sempre io Ho messo questo carding anche Quello che avevo anche ieri nel video Non lo so, questa roba è bianca da dove spunta Pallini E ho messo questa t-shirt verde militare A maniche corte Così dentro i pantaloni Con questi jeans qua E la cinturina così Però non lo so, stavo pensando Mi sono dimenticata che ho delle camicie E qua ci sono delle camicie Però non lo so, sai Se voglio mettere la camicia Voglio stare comoda Voglio stare comoda Adesso ragazzi Mi appoggio qua Mi appoggio qua Guardate la bomboniera Oddio Io quest'estate ragazzi Sono stata in Marocco Perché mia nipote Cioè la figlia di mia sorella Di una Delle mie sorelle Perché voi dovete sapere che io Ho tantissime sorelle E Ha fatto un matrimonio Questa è la bomboniera Dentro c'è una busta di enne Sapete che in Marocco l'enne Si usa tantissimo Però io non l'andrò a aprire Questa sarebbe tipo una collana Comunque qua c'è scritto In nome di Dio Così Molto carina Ce l'ho qua di fianco a me Ah Dato che ci sono Vi faccio anche vedere Per chi mi segue su Instagram Ha visto Perché avevo postato della roba Però Scusate Devo fare il caffè Cos'era? Ah Non sa mai Alcune di voi Non l'hanno visto Sicuramente Vi faccio vedere Guardate Questo è il vestito come esso Questo è il mio cugino Cioè guardate che figo Che è il mio cugino Ragazzi È piccolo però E Guardate l'enne Che avevo nelle mani Bellissimo Questa è la sala Questo è il vestito che avevo Sono impazzita Per trovare il vestito Questo è un vestito Che non compri Lo affitti E poi lo ridai indietro Ma cosa mi è successo? Che quando è finito tutto Non ho fatto i fuochi d'artificio Eccetera E ovviamente La sottoscritta Ha fatto i buchi Ha bucato il coso Si è incendiato Quindi ho dovuto Pagare tutto il vestito E non me lo sono neanche portata a casa Invece queste qua Siamo io Con le mie sorelle Figlio di mia sorella Figlio di mia sorella Io Lei E la mamma Della sposa E qua c'è Nora Guardate L'ho preso un vestito Come il mio Avete visto? E niente Questa si chiama noi Guardate L'ho preso il vestito blu Così E poi ci sono tantissime altre foto Qua ci siamo solo noi Ci sono tantissime altre foto Che avevo messo su Instagram E video Quindi se vi interessa Andate pure su Instagram E trovate tutti i miei I miei copie video Adesso ragazze Dopo che vi ho detto questa cosa Mi trucco E poi così usciamo Ehi Ehi Ti è dalla finestra No Va bene Devo anche fare i capelli a Nora Quindi Mi do una mossina Allora ragazze Mi sono truccata I capelli li terrò così Diciamo che Truccandomi contro luce Cioè la luce di lei Mi sono truccata di qua Sono un po' Troppo rossa Ma va bene Come profumo Ah ma voi Voi lo vedete È in camera sua Ecco qua Mi vedete Vi ricordate Il mio profumo preferito Che avevo fatto vedere Un tempo fa Di Zara L'altro giorno L'ho rotto E quindi Non ce l'ho più Però Non vi preoccupate Perché Io ho una marea di profumi Là ce ne sono un sacco Qua Ce ne sono un paio Sotto il letto Anche Allora Oggi Non so quale mettere Ho questo No Questo qua Della boss Ho questo Versace Questo Beh ne ho una marea Questo ragazzi Questo era di mia mamma Quindi Non lo andrò Mai a usare Questo È di Zara Buonissimo Però è estivo Non so cosa mettere Ragazzi vi giuro Questo Questo Me lo misi Si dice così Quando Mi sposai Buonissimo Questa Armani Coat Guardate quanto è rimasto Non lo voglio usare Mi sa che andrò a mettere questo E via Secondo me Ha un profumo autunnale Buonissimo Mamma mia Questo mi ricorda mia sorella Ok Volevo farvi vedere Prima di uscire Che mi è arrivato un fatto Che ho comprato ieri Per Aaron Arrivo Praticamente Ieri ho comprato una cosa per Aaron È arrivata subito Questo qua L'ho comprato L'avevo già visto Però Non l'ho mai voluto Comprarlo Poi ieri Mia sorella Nel parlare Mi ha detto Ma perché non provi a usare Questo gioco Allora mi ha fatto venire in mente Di nuovo Quindi ho comprato Questo giochino per Aaron Che aiuta un pochino A parlare Allora Abbiamo notato che Aaron Preferisce parlare inglese Piuttosto che italiano Nonostante che a casa Noi parliamo solo italiano Quindi Ho preso questo gioco Che è in inglese Perché qualche parolina In inglese la dice Mentre in italiano Neanche una In inglese dice Thank you Daddy Ah in italiano Dice solo si E acqua Che poi non è anche acqua Dice qua Comunque Questo qua Dove metti la card Dentro E questo dice La parola E il bimbo Dovrebbe ripeterla Wow Ragazze C'è praticamente Se faccio La review Di questa qua E poi La mando A questa email Mi danno 5 pound Di regalo Su Amazon Da spendere Comunque Volevo Caricarlo Così quando tornavo Vediamo Se torniamo presto Ci giochiamo Con Aaron Qui c'è la catenella Perché va appeso Perché questo È un gioco Che vabbè Può essere utile Sia ai bambini Che stanno imparando A parlare Ma è un attrezzo Un attrezzo Che usano i bambini Con l'autismo Che sono Non verbali Tipo se vogliono dire Che ne so Acqua Card C'erano C'erano 225 Ciao Nora Ciao Non riesco a tirare qua Volevo farvi vedere Solo una Questo Flower Sono però Un po' troppo Cioè Si cosano subito Pensavo fossero un po' più rigide Tree Tree Bene Questo dovrebbe aiutare Aaron Un pochino A sbloccarsi Nel parlare Volevo farvi vedere Un'altra carta Ma Non si mollano Ecco Dog Hen This is actually a real Sì è vero Sì è vero Ok Quindi niente Adesso lo metto a caricare Così magari ci giochiamo oggi E niente Questo è quello che ho comprato Per Aaron Per aiutarlo a parlare Non è un gioco eh Per aiutarlo a parlare Io so già No No Lo mettiamo in chiaro Che poi non pensa Che gli abbiamo fatto Un regalo a lui E lei no Ah lo devo caricare Stompe lui Ci puoi giocare anche tu eh Però L'abbiamo preso Tu cosa sei un'adulta? Sì Ah sì? I'm a teenager Ti piacerebbe Ti piacerebbe No Tu sei un'adulta 4 Ok Adesso ragazzi Finiamo di prepararci E niente Vi aggiorno su dove andremo Allora Grazie a tutti un po' di più No, 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 no No, 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 no Nora, devi colpire quelli, eh No Nora, no Io sono un po' più fortunato Vai, vai, Aaron, vai Vai, vai, Aaron Vai, Aaron Ma cosa è dentro? È la luce Sì Con i punti abbiamo vinto questa caramella Fa vedere, Nora? Fa vedere tu, quello? E questo, uno per Aaron Che carino Mamma mia, ragazzi Che pazienza che ci vuole con i bambini Siamo venuti al McDonald's a fare merenda Perché ovviamente oggi è la giornata per i bimbi E su richiesta di Nora siamo venuti qua Dopo andiamo a mangiare da qualche parte Il McDonald's molto gentile Dà queste indottazioni Questi fogli da colorare con i colori Ecco qua Guardate al McDonald's inglese Non so se in Italia c'è ma non credo C'è l'apple pie Praticamente questa sfoglia con dentro le mele, la cannella È tipo una piccola torta apple pie Molto buona È calda e io la mangio insieme Di solito al gelato freddo È davvero molto molto buona Per Nora Questo con gli Oreo Anche Aaron Io invece questo con il cioccolato E poi questa E poi questi Però questi li mangiamo tutti insieme Allora ragazzi Eccomi qua Sono distrutta Abbiamo fatto un giletto nei negozi Che ci sono là vicino al McDonald's Dove abbiamo mangiato Adesso siamo in macchina Che andiamo verso il ristorante A mangiare Vi faccio vedere È un ristorante Che forse vi avevo già fatto vedere Un ristorante di cucina libanese Fa la carne alla griglia Buonissima E andiamo Ci mettiamo lì Aspettiamo Che ci raggiunge Il mio cugnato E basta Ma poi vi faccio vedere Comunque guardate Questi brufoli qua Non se ne vogliono andare Perfetto E niente Io sono distrutta Abbiamo Cioè abbiamo Hanno giocato i bimbi E tantissimo E niente Una bellissima giornata Ieri Un altro ieri Tutta questa settimana Ha piovuto tantissimo Invece oggi Una giornata Bella Però comunque Il cardigan Ci sta Perché fa caldo Ma non caldissimo Comunque Dopo vi faccio vedere Il posto E Cosa ordiniamo Che è un Tipo Solito È un piatto unico Che paghi Tot E dentro Ci sono tutte queste cose Carne Cose Dopo vi faccio vedere Che lo dividi Insieme Al tuo tavolo E che ognuno Prende quello che vuole E così Anche più Diciamo Economico Vi faccio vedere E niente ragazzi Ci vediamo Dopo che vi faccio vedere Tutto quello Che abbiamo preso Basta Intanto Mentre io parlo Comunque Mi spazio Un po' Va bene Va bene A dopo Questo è il posto Ragazzi Questa è la fila Che c'è Per entrare Che fa angolo Che fa angolo E questo è il posto E' tornato a ridere E' tornato a ridere Che cose Vieni qua E lasciali a loro Il versilino Ehi Guardate quanta fila Fino alla Qual è Qual è Che cosa Noi siamo usciti e qua, ragazzi, c'è ancora un po' di fila. Allora, ragazzi, guardate, c'è scritto for free, c'è della roba e guardate che cosa ho trovato. Tre tazze. Adesso me ne prendo e le porto a casa, così, mentre tornavamo verso la macchina. Adesso domani le lavo, avete visto? Allora, ragazzi, eccomi qua, sono già nel letto, io mi sono già fatta la mia skin care, mi sono lavata i denti, ho messo le mie mascherine, sono nel mio lettino. Che bello, ragazzi, quanto è bello il proprio letto al calduccio sotto le copertine. Vabbè, comunque, sono le 9.40, noi siamo tornati praticamente verso le 9 e qualcosa, i bimbi si sono addormentati in macchina perché loro erano svegli da stamattina prestissimo, verso le 7.30 si sono svegliati e quindi erano distrutti. qui, scusate se parlo un po' così, ma ho le mascherine su, siamo andati nella sala giochi che vi ho fatto vedere, hanno giocato tantissimo, abbiamo fatto, mi sembra, 20 pound di giochi e il monetino è da 1 pound, cioè hanno giocato e abbiamo fatto 400 punti e hanno vinto con questi 400 punti, dovevano scegliere il giochino e abbiamo scelto quel giochino che vi ho fatto vedere con la caramella. Poi siamo andati al McDonald's a fare merenda e poi abbiamo fatto una passeggiata nei negozi che c'erano lì fuori, non l'ho ripreso perché scusatemi, ma col fatto che stiamo cercando di andare in giro con Aaron senza passeggino, cerco di tenerlo per mano perché ci sono le macchine, vabbè, lo sapete anche voi, a meno che non sono in un parco all'aperto e quindi niente, quindi cerco di stare dietro di lui così e non riesco a stare anche a fare magari qualche video eccetera. quando riesco tiro fuori il telefono e lo faccio e poi niente, dopo siamo andati a mangiare, aspettavamo mio cognato, quindi ci siamo presi un succo, io ho preso questo succo che si chiamava Clear Skin, che ve l'ho fatto vedere mi sembra, con cocomero, mango e ananas, molto buono, l'ho diviso per me e i bimbi e basta, poi abbiamo mangiato il piatto, ve l'ho fatto vedere, questo piatto che si condivide con la carne, questo, allora il riso in bianco e poi questo tipo chicchi di pasta che non so che tipo di pasta è, sembra un cereale, comunque ragazzi è buonissimo, è cotto col pomodoro, non lo so, non lo so, io l'ho chiesto ma non sono riuscita a capire e poi ti danno le costolette di agnello, comunque c'è un mix di carne, poi abbiamo preso il baba ganoush, insomma abbiamo mangiato, quello che è rimasto ce lo siamo fatti impacchettare da portare via e quindi lo mangeremo domani a pranzo e basta ragazzi, questo è quanto, insomma vi ho raccontato quello che avete visto, non so neanche perché, e poi vi ho fatto vedere che mentre andavamo verso la macchina ho trovato questo cassonetto con dentro la roba da gratis, è una cosa che qua in Inghilterra fanno tantissimo, metti le cose fuori gratis, chi le vuole le prende, piuttosto che magari buttarle, e basta, adesso poi siamo tornati, Nora si è sistemata da sola per fortuna, pigiamino non si è lavato, si è lavato i denti, Aaron invece che dormiva, l'ho dovuto cambiare così velocemente, lui ho messo il pigiamino almeno, e niente, l'ho messo a letto perché lui era veramente KO, adesso pure io sono veramente distrutta, sto per crollare, non sembra, non sono stanca, molto, ma forse sembra, guardate che occhi che ho, e niente, volevo solo salutarvi, questa è stata la mia giornata di oggi, penso di mettere il video domani mattina, se riesco a sistemarlo oggi, magari non faccio tanti tagli, così ci metto poco, e ve lo metto domani, spero che vi piaccia, nonostante che è un video un po' così, cioè tipo, quando riuscivo riprendevo qualcosa così a caso, quindi vi chiedo scusa se il video magari non è proprio un classico video, vlog, come fanno tanti youtuber, però, questi sono i video che faccio io, niente ragazzi, io vi mando un grosso grosso bacio, e niente, ci vediamo al prossimo video, e vi ricordo che, per chi mi segue da un po', domani sarà domenica, quindi voi vedrete questo video appunto domenica, se, sì, sai da me ti la posso, domenica mattina deve uscire, punto, poi, domenica non giro niente perché la dedico ai bimbi, quindi domenica starò a casa a giocare con i bimbi, e lunedì Nora va a scuola, io sono a casa con Aaron, quindi non faccerò niente, e martedì se faccio un video, o lo metto martedì, oppure mercoledì, quindi se non mi vedete, non vi preoccupate, ve lo dico così, non vi allarmate che pensate che non faccio più video, semplicemente perché non ho avuto da fare, però, magari il video uscirà o martedì o mercoledì, ok? Vi mando un grosso bacio, ragazze, ci vediamo nel prossimo video, ciao!